Il Pachima 2018 è stata una delle fiere più importanti che noi facciamo, dove abbiamo voluto presentarci con uno stand molto importante. Abbiamo presentato tutta la gamma dei nostri macchinari, dal più grande al più piccolo, in modo da poter coprire tutte le esigenze dei vari clienti. Il successo c'è stato, abbiamo consolidato degli ordini dove stavamo già aspettando dei clienti che ci dovevano visitare. La soddisfazione è ancora maggiore perché sappiamo che comunque quando un cliente viene in una fiera di questo tipo visita molte molte altre ditte concorrenti, quindi quando uno ci sceglie diciamo che siamo veramente certi di aver fatto una buona figura e una buona impressione. C'è stato un bel via vai di gente che è un 50-50% di italiani e soprattutto di straniere, quindi anche il mercato estero è un mercato che noi trattiamo con attenzione, quindi anche il discorso di gestire il cliente noi lo facciamo in lingua ovviamente, inglese, francese, tedesco e cerchiamo di soddisfare le esigenze di tutti e di vari mercati, anche di mercati che non sono facili come magari l'Africa o dell'Oriente, insomma trattiamo un po' in tutto il mondo. È molto importante anche la partnership che abbiamo creato con alcuni fornitori dove stiamo creando veramente un buon team per poter dare ai clienti un pacchetto completo che include non solo le macchine che noi produciamo ma anche la consulenza, l'appoggio e l'assistenza tecnica sullo scegliere i materiali di incarto o di imballo, i sacchetti e altre opzioni a completamento delle macchine che noi facciamo e quindi poter aiutare i clienti nelle loro esigenze. Grazie a tutti e buona fiera! Grazie a tutti! Grazie a tutti!